Quante volte ho visto che? Non l'avete mai visto? Quando noi finiamo di lavorare e che risolviamo i problemi di attraverso una specifiche del colore volevo farvi vedere come noi disinfettiamo il nostro salone ogni cliente che noi finiamo. Allora, adesso abbiamo finito 3% di questa macchina e questo è un po' più importante. Quante volte, salifico qua perché giustamente la cliente è stata seduta qua, salifico anche la cliente che non ci conoscono e quindi vorremmo farvi vedere come salifichiamo quando ogni cliente che finiamo noi salifichiamo per dare sicurezza alla cliente e anche a noi disperiamo. Anche qui c'è la nostra cliente stamattina. Non potevo farlo quando c'è la gente perché non sta bene. E noi ce ne facciamo questo. Vedete? Suolo anche qua. Ho voluto mettere anche un'altra protezione perché può capitare una giornata che ha due lavori importanti perché dato che sono una specifiche del colore ho voluto anche dare ancora più sicurezza. Dato che noi lavoriamo anche tanto con la chimica, non possiamo aspettare una cliente all'altra nei 10 minuti. Ci vuole sui tempi, dobbiamo sciacquare. Quindi ho voluto dare anche quei benefici, soprattutto il benessere e la sicurezza dei nostri clienti. Abbiamo finito stamattina e io sto salificando il tubo. Vedete? Con questo vaporezzo, sì. Vedete che prima abbiamo igienizzato con la macchina fatta, eh? Però, per farvi capire che noi lavoriamo in sicurezza. Quindi, chi viene da noi state tutti tranquilli perché abbiamo una cortezza a 360 gradi. Io ringrazio molto che ci hanno fatto rimanere aperti perché evidentemente avranno capito che noi parrucchieri lavoriamo molto in sicurezza. Quindi, se il caro Stato ci ha voluto lasciare aperto perché ha capito veramente che noi ci siamo molto bravi a lavorare tutti, ma stiamo lavorando molto con sicurezza e con tutte le norme che ci dice di usare il protocollo, eh? Per farvi vedere che, come quando finiamo di lavorare, noi facciamo questo tipo di pulizia, molto approfondita, così state tutti sicuri e sicurezza. Io vi saluto, dame le mie specialiste del colore. A presto!